Sì, è per la prima volta nella storia, però siamo in tanti, non siamo più solo in due, in tre, in quattro, ma siamo in dieci, in quindici, in venti, quindi stavolta l'Europa cambia davvero. Sì, ma io sono a casa qua nella mia Lombardia come ero a casa in Sicilia tre giorni fa. Ok, grazie. Ragazzi, mi fate andare. Posso avere due ore di relax, grazie. Ciao, cazzo. Ciao, cazzo. Ciao, bella. Ciao, ragazzi. Mendo il dialogo con le cinque stelle. Mendo il dialogo con le cinque stelle. Non c'è bisogno di stare attaccato. No, appunto, non c'è bisogno di stare attaccato. Buona passaggiata. Ciao, Matteo. Attenzione. Buono. Grazie. A presto.